Se ti piace la frutta Ok Adesso ci siamo Non mi fido Vedi un accesso? No vedo una bidet Che bello è che se non ridessi magari farebbero Un pochino più ridere Di quel poco che fanno Vabbè Oh vedi Esplorare ogni tanto Qualcosa ti danno Kit medico Subito Bomba Subito Ok E tra l'altro si è anche rinnovata Potenziandola Il che non è male C'ho il colpo fatale E mi sa che c'era a partire da sotto Non datemi questa bad news No forse no forse no Yes Vedo un'arma Fuscito automatico? No Era munizioni che già ho Sed Ecco Potevo aumentare la capacità del caricatore Vedi Avrei avuto meno problemi Però Ormai la scelta l'ho fatta Qua c'è una corda E credo che sia l'unico modo per salire Qua c'è un'arma Qua c'è un'arma Qua c'è un'arma Studi televisivi? Eh sì. Il canale 13. Che canale c'è sul 13? Boh. Saranno quelle reti regionali. Ne so. Però il posto non è affatto male. Quando aprite le porte, raga, fate sempre un passo indietro. Perché se lo fate in avanti, potreste rimanere fregati. Per non usare termini più cattivi. Il silenziatore potrei anche farlo. Ah. Nice. Io credo che non si possano neanche rompere le finestre qui. Giù non si può andare. Col cazzo che lo cambio, mo' che non ho modificato. Tutututututututu. Che ci tiro? Vabbè, fammi usare l'evolver, dai. No. Ci deve essere qualcosa da tirare, dai. Per forza. Non farmi sprecare i colpi, ti prego. Uffa. Va bene. Sprecheremo i colpi. Che devo fare? Posso far nulla. Sicuro che non ci sia una bottiglia, qualcosa? Non c'è proprio nulla. Zero. Come la Coca-Cola. Zero. Che smacco. Va bene. Beh, buono. Ok, adesso facciamo così. E prendiamoci tutto. Si può rimuovere il silenziatore? Oh, che bello. Buono. Questo è buonissimo. Però rimane il fatto che io non so dove andare. Questo è il problema. Ah, ok. Adesso so dove andare. Ok. Eh, qua ce l'hanno fatta esplodere bella? Qui Tommy non c'entra. E anche perché c'è un po' troppa confusione perché ci potesse entrare Tommy. E fare tutto da solo. Spero di no. Ma stai allerta. Allerta Berlino, stai. Spero di no. more. Spero di no. Spero di no. Spero di no. Vabbè dai una rapina a mano armata Anzi Mano armata per modo di dire perché siamo soli E fanno molto comodo queste cose sapete Tutti questi oggettini Oh tutte le cose al massimo si godo Pensate un po' quando cominceremo ad usare Abby Tutto si resetterà da capo Cioè Soprattutto il potenziamento armi Si riazzererà da capo Sed C'ho un pezzo di prosciutto attaccato Ai denti che fastidio Merda Un altro corpo lì Non mi piace Sono troppo esposte Dobbiamo cercare ovunque Voglio trovare lì Solo Ok giù non si può andare Se avrebbe veramente meglio non andarci Però C'è questo passetto qui Speriamo che non crolli Ma non dovrebbe dai Veloce Vai Non ne ho apri la porta Vabbè ma ha fatto da sé Bene così Chi fa da sé fa per tre Ok Io prima di aprire quella porta aspetto però Perché Mi puzza Mi puzza tantissimo Quindi più accurati si è Meglio è Oh Carte Chi mi mela Che nomi Ok Giù non si può andare Quindi andiamo su Molto Call of Duty Questa Ambientazione E il che ci piace E come se ci piace Sti rumori molesti Aiuto Siamo al massimo con l'alcol Siamo al massimo con tutto Vabbè Utile aprire questa porta Utilissimo Grazie Questi sono integratori vero? Yes Ne abbiamo 58 E quindi Velocità di movimento in ascolto Riduzione danni Creazione rapida Le mie azioni fortive più veloci Di quello Ci servirà E spero Che Riusciamo ad arrivarci Proprio il prima possibile Perché È uno strazio Spesso e volentieri È lei Non è abbi Ah ok Sicura? Sì Quando si dice Avere l'universo contro Non ha niente con sé Se risponde a un grande No ma non risponderà Dina Dina Guarda ci sono tutti Aspetta È vicino a Jackson Come ridono gli stronzi Che assist meraviglioso È lei È quella che l'ha ucciso Ho tre in meno Giusto? Ho tre in meno Qui il sito 2 Ci ricevete? Unità di supporto India In arrivo allo studio tv Ripeto No Che sfiga però È morta Come ti senti? Sono incazzata Perché volevo parlarle Già Ma non ha fatto nulla Joel Avrebbe avuto poco senso Costringerla a parlare Vabbè Abbiamo ucciso Easy Non mi importa Se l'abbia ucciso o meno Merda Giù presto Minchia Rapidissimi sono stati Eh Con me Me lo chiedo anch'io sai Sarebbe stato buono Metterci alla finestra Sapete? Metterci alla finestra Pium 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 Sapete che godimento Magari anche con un fucile da cecchino Ok Il primo è qua La prima più che altro Ho visto una luce Noo Sapete cosa? Si torna al punto di partenza Che è questo Così ti perdono per forza Vabbè però Due senza perdere neanche un colpo È buono eh Ma dove sono Eh Dov'è Dina? Da questa parte Eh Dina Potevi fare la stessa cosa che ho fatto io Che tra l'altro hai fatto anche prima Hai fatto vaffanculo Non mi avrai Sì o non mi avrai Perché tanto qua non ci potete venire quindi Tranqui Devo riuscire a capire quanti sono Ma è sceso? Non mi sa che è sceso Non importa Scusate concentrazione Dove sono Sono EDI Probabilmente sono giù Wow Oh 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 Eccolo Una propria portata di tiro Speriamo che non ci vecchi Brava Brava Dina Brava Ti sei reso Ops Sveglia te eh Trovate Qui Qui Dai Ci penso Sì Sei proprio la più sveglia del quartiere Sulla destra Non si fermare Ora sei fottuta Via 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 Questo Lo chiamo culo Questo lo chiamo Super culo Vedete l'arma potenziata A volte cosa fa A volte cosa fa Vieni ciccio vieni E così si fa Sono tutti morti Non credo Non trovo Dina Non trovo Dina Giù Purtroppo non sono molto elegante In queste cose Però Posso ammettere di essere efficace Molto efficace E mi sa che invece Sarà la cosa che faremo Giù Merda Giù Faccio un tunnel Giù Li davanti Oh merda Torza di qua Ottimo Per ora può andare Muoviamoci Che sudata Giù 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 Grazie.